a me mettere in dubbio il lavoro che è stato fatto e i valori di cui noi oggi indubbiamente godiamo di quello che può essere tutto quello che è arrivato prima, indubbiamente, però visto che la parola chiave di questa sera è partecipazione, io purtroppo, e purtroppo forse più per loro che per me, io questa partecipazione attiva, questa partecipazione nuova, dal basso, questa linfa vitale, stento un pochino a vederla e mi domando se la responsabilità sia tutta da imputare all'individuo e chiedo a loro quindi in maniera provocatoria quali sono le azioni per cui si vuole invece attuare un cambiamento, perché mi sento di dire che se un cambiamento non ci sarà e non deve essere un cambiamento di visione a lungo termine, deve essere un cambiamento immediato, purtroppo tante di queste realtà potrebbero, dopodiché io non prevedo il futuro, però sparire, venire meno e magari perdere tanto di quello acquisito e questa cosa mi fa un po' paura, senso a volte, tutto qua.